Bentornati a Panorami. Molto si discute in questi giorni del cambio di registro comunicativo e del nuovo stile comunicativo del governo presieduto da Mario Draghi. E in effetti questo cambiamento, questo multamento si può dire che si tocca con mano. Lo ha annunciato il presidente del consiglio nei pochi discorsi che ha fatto finora, nelle poche parole che ha letteralmente pronunciato, quando ha detto che parleranno i fatti per il governo senza oggettivi di responsabilità nazionale. E in effetti il bisogno di mettere un po' di silenziatore, di ridurre fortemente i toni tipici della comunicazione del marketing politico dell'età della campagna elettorale permanente, soprattutto in Italia, rappresenta un buon auspicio. E da molti punti di vista risulta anche molto fattibile, decisamente possibile perché dal momento che la polarizzazione e l'inalzamento dei toni nascono dal contrasto, dal conflitto tra famiglie politiche, tra leaders e partiti in contrasto appunto permanente, il fatto di trovare i differenti partiti e i differenti leader sostanzialmente accomunati nel sostegno a questo governo di larghe intese e di responsabilità nazionale, fa sì che i toni della loro comunicazione necessariamente si abbassino e per l'appunto non si trovino tutti l'uno contro l'altro armati comunicativamente. Al tempo stesso è chiaro che il presidente del Consiglio, anche nelle scelte delle figure che vanno a comporre il suo staff di comunicatori, sta adottando e imponendo alla comunicazione politica quello che possiamo chiamare lo stile banchiere centrale, ovvero una modalità di comunicare fondata sulla riservatezza, sul riservo, sulla discrezione, direttamente inserita a partire dai mood, dagli stilemi e dalle modalità che caratterizzano le figure di vertice e i leaders degli istituti di regolazione della finanza internazionale, quegli ambienti da cui proviene per l'appunto il professor Draghi. Questo stile banchiere centrale significa un'attenzione molto più pronunciata per la comunicazione istituzionale rispetto al marketing politico e dunque non la ricerca del consenso, non la finalità elettoralistica ma anche in ragione dell'emergenza che viviamo e delle caratteristiche di questo governo del presidente o dei due presidenti, un atteggiamento che mira per l'appunto comunicare unicamente le cose fatte, quelle che verranno per l'appunto implementate, soprattutto attraverso uno stile comunicativo asciutto e facendo parlare per l'appunto i numeri, le cifre, i fatti. Un aspetto importante che è destinato, se attuato nel migliore dei modi, ad introdurre una discontinuità, almeno per un periodo, quello del governo di solidarietà e di responsabilità nazionale in una comunicazione politica che è stata troppo bellicosa e al tempo stesso anche però la necessità che il governo e i comunicatori del presidente del consiglio non devono trascurare del fatto che non si può comunicare attraverso i silenzi e che occorre costruire appunto un circuito virtuoso in grado di far arrivare le informazioni ai messaggi senza spin, senza sovraccarico comunicativo, senza tendenze eccessive per la propensione elettoralistica o per l'annuncite, ai cittadini che soprattutto in un momento così delicato e problematico hanno bisogno di messaggi chiari, unifici e che siano in grado di anticipare per l'appunto le scelte del governo perché l'opinione pubblica soprattutto in una fase appunto difficoltosa quale l'attuale ha bisogno di trovare realizzate le indicazioni e ha bisogno di poter discutere, dibattere e sapere quello che accadrà da lì ad alcune settimane.